Amici di MarciGames bentornati siamo tornati sul nascondiiiiiiiino Nascondino Io volevo... non mi ricordo più come si fa Cioè ma io sono quello che cerca scusate eh Ma veramente? Ma veramente 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 Siamo tornati su Run Prop Run E io sono super contento Eh perché devi fare quella R no? Con l'air tasto destro Insomma non ci piacciono queste cose Io sto già iniziando Sto già iniziando perché Stai iniziando raga Io sono ancora un frigorifero No vabbè comunque è pazzesco Ma non si può correre in sto gioco scusatemi eh Ma dove siete rai Allora io sono Il silenzio è veramente a tryhard raga Veramente è troppo cattivo Ma io voglio il Ha 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 Ma cosa sto 굉장히 Lì siamo a fare? Non l'i state facendo raga non son contento Ma dottermino Bro li sto cedendo ogni secondo io Ha 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 Eeeh Eeeeeh Eeeeh Zangilewa Dove siete? Io mi sto addormentando raga Poiva come state? Ma posso andare dentro la casa? Ma sapete che è veramente difficile sta mappa Ah ha 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 Non mi hai sparato come vai non sento gli schermi schermi che vogliamo quando c'è mosca erano io non vedo ma da marci dal mio lo vedo è più o meno lì ma io gli schermi non li sento c'è qualcuno qua bene ma dove cavolo siete ma non tutti falliti ma poi non vedo mare o muovetevi un po no c'è qualcuno qua dentro per forza io dico vabbè ogni tanto dove sei marci non ti vedo si è la stessa zona dall'inizio e ancora non mi ha trovato nonostante stia facendo tutte le cose per farmi trovare io ho cambiato posizione di nuovo duplicato le cose schermito mi sono mosso e non mi hai preso raga sto veramente avendo difficoltà almeno no non me la ricordavo questa funzione ovviamente vado a fare un giro mi becca subito il clown no ma perché clown ma scusa si è fatto prendere c'è un albero che si sta muovendo lì marci ma non fare la spia mamma mia raga sapete che io ho perso loco devo giuro ragazzi è saltato in aria poi è sparito è sceso è sceso vicino al cammino è un libro marci si vicino al cammino è un libro fuori 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 dalla casa ok aspetta che scendo bravo non ci sto capendo niente è sceso da lì capito c'è una tomba che corre fuori casa ho visto però l'ho vista e marco palesemente marco ma non è essendo catturato mamma mia meno ragazzi l'ho quelli lì ai voglio che bisogna un altro a guardo mi ho dimenticato corri roccia nico no avete perso ragazzi un vaga è stato davvero vi fidate che sta mappa è difficilissimo ma tu hai perso tu sei l'unico che hai perso e no è perso io l'ho trovato almeno quindi come si cambiava raga 16 e chi qtast raga mi lascondo qua che la team ma come si si nasconde r bro r ma chi 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 che nasconde rai sta nascondendo lo che cerca lo metto in italia no raga dai loco palesemente adesso sto già tutto si è già studia tutta ma pace la fotografata in testa sa dove le occe sono spostata questa andando alla tomba raga gli oggetti da lontano guarda la carta era stata appena come da lontano e raggio e lungo non c'era prima questo sì che c'era e come in realtà ma il coppia non funziona ma non dare un oggetto e mrc e non va ccc non va dipende essere un oggetto oggettabile deve essere anche vicino ma qualcuno stessando catturato ragazzi a prenderlo k marco e sto scappando e molito addirittura demo guardate che demolito e pesante ora che nico ti sta scappando dietro non così si è accorto ma che cerca le persone è zitto scemo il mio pod molto bello pov sei nico non ti vede vero quella molto carina ma io penso penso che la situazione potrebbe essere abbastanza disagiante comunque io sono uno scoto un comunque in tutto ciò c'è scritto rimanendo nascosto quello ha capito un'altra cosa io sento ridere quello quale aveva una bella vista aveva una bella vista prima c'è comunque questa situazione veramente da schermizione veramente io ti dico solo se vuoi uso il fumaggio nel scappo aiuto il fumaggio no da non me la sento schermendo qua sotto schermito non sei te trovami e badi qua sotto dove ma cosa è badi qua sotto vede che difficile ma chi ma non è vero ragazzi sono io ma che è difficile questa mappa è una della mappa è più difficile un fico fermo ma ci aveva ragione è difficile ma tanto molto carina molto carina schermisco io eh bravo anch'io schermito adesso dove è il traguardo e nico? eh io spero che sia buono e ora si avrò un momentino che lo osservo oh è un po' troppo è un po' troppo lontano eh però per me è decisamente troppo lontano ciao DeMarc guarda che c'è nico ciao DeMarc allora dove siete? adesso non vincete più è perché sono in... no dai nico non mi trovare che tu sai dove sono ma in realtà non lo so dove sei sì sì lo sai benissimo mi hai visto 50 volte prima non lo so ho detto che non lo so ti prego dai non cercare tu vai mostratevi eh mostratevi prostratevi prostratevi no prostratevi dov'è badi? ti ho sentito eh? non ero io nico probabilmente mi sa che ha sbagliato persona mi sa che ha sbagliato i cavallini sulla mia maglietta ah scusa cavallini sulla mia ah 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 dov'è 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 non lo so ma dove siete raga voi? che c'è c'è qualcuno al piano superiore no nino ti prego nico nooo dai comunque non è giusto io non l'accetto marci a me sembra che tu sembra bravo nico io questa cosa non l'accetto cioè io non posso sono troppo lontani tutte le cose sopra ora qua dentro sono troppo lontani badi badi se tu mi dici scrivimi dove sei badi io ti faccio ti salvo eh no marci non posso non puoi salvarmi io ti voglio salvare cioè questo qua che si studia la mappa memoria si studia che no no dov'è dov'è? dov'è? badi sto entrando io nella serra vai 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 grande il badi è il badito è il badito è un bandito che salvataggio in quella serra oddio no devo cercare io comunque è bella bella interessante con la mappa sì 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 molto carina è tosta molto molto carina è tosta chi è tosta? è tosta? è tosta copiatrice è tosta copiatrice è tosta raga è veramente tosta come situazione vabbè io mi metterò qua mi sono uno sgabello vi attendo ok grazie di nulla io spero che badi faccia il bravo con me io sono nella serra no è che io sono comunque in una situazione complicata vado sul tetto dico nella serra io sto schernendo io sto schernendo vado stai andando verso la serra no ma dai non voglio andare sulla serra dai non venire io sono dentro casa raga non lo so chi ci sia no loco all'esterno io non sono all'esterno marco è l'ultimo piano se ti interessa ma da marci per favore potresti non dire dove sono farti raffare i tuoi io sto schernendo io sto schernendo io sto schernendo un botto raga brutta roba badi non trova nessuno raga badi è nella cameretta ah easy allora badi è andato nel corridoio badi è salito badi è salito badi è l'ultimo piano e sta cercando di oh il cavallino bravo no guarda che no no il letto no badi no badi scendi dal suo letto al favore badi il letto no il letto no il letto no ma ragazzi ma perché io non ho l'audio del gioco ma non ma è un errore questo senza l'audio del gioco secondo me è una scusa lui ce l'ha l'audio del gioco no non ce l'ho no è che semplicemente loco alzalo perché non lo alzi che mi spacco le orecchie già che ridate voi io vi so che tutto legato insieme mamma comunque badi badi come loco raga badi come loco mille scuse io loco io lo smego che sto zitto perché guardo veramente metà del tempo sì però badi devo uscire di casa dai ma dai badi adesso mi metto in un angolino adesso mi metto in un angolino io sto fermo in un angolino io non ho veramente non ho veramente words ma perché devo uscire di casa se sto in una situazione bella badi se vuoi ti do il permesso di venire nella mia stanza e vedere dove mi trovo no bro io ok ma l'elcio ma l'elcio ti ha chinto dice no inutile che scappi no vabbè raga ma nico no eh no eh no nico ci trova subito adesso eh ora inizia il giochino che sbattone raga nico sta in effetto proprio tryharding zira peggio mamma mia raga ah 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 io sto schernendo veramente non sono badi non è badi nico sta entrando raga è nel porticciuolo nico sta per entrare sta per entrare in casa io sono fuori casa comunque allora ragazzacci dove vi nascondete non te lo posso dire fratello come no dai quanta gente c'è qua dentro 20 secondi 20 secondi nico veramente è pazzesco pazzesco veramente veramente raga non sono quel cuscino lì per favore dai no non sono io quel cuscino no sono io il cuscino non parto il cuscino ho aperto una no nico sono io wow 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 cos'è questo il traguardo è aperto raga chi fa il traguardo io sono qua eh vabbò marco si è liberato fai il cantante tipo eh sì raga comunque è meglio non essere trovati che andare al traguardo quasi eh ve lo dico eh beh oddio eh insomma comunque sono punti eh oh esatto sono punti cioè io sono di fianco al traguardo ma non me la sento di andare eh qualcuno se la sentite è fuggito ragazzi è qua da me è qua da me è qua sopra dai da qualche parte subvia allora nico ti posso dare un consiglio no ok quel quel comodino lì non sono ok mi state toccando veramente tanto cioè vicino alla sedia è brutta una cosa da dire ah vedete dove c'è il triciclo il triciclo ecco allora questa è la cronoma memoria eh vabbè eh raga è il problema non è qua dentro non è qua sì allora come faccio a sapere dove siete buddy sta per uscire è inserpita marco è a sinistra buddy è uscito mi faccio saperlo loco non è in questa stanza e vabbò ma lo sento schermire se vuoi andare sul traguardo puoi andare no io non ci vado rimango nascosto ah così blocco dietro dietro girati girati vai dritto di lì è d'altra parte d'altra parte sei vicino a me adesso guardi schermisco ma non ci sei sì ci sono avete la pila di foglie raga no ma Marco dove c'è la cosa con la tenda sotto non è noi con l'ensuino sopra non è noi ma come faccio a sapere dove siete hai le cattive non lo so secondo lo schermo di qualcun altro è una lampadina palese allora Marco non sono quell'armagliatto lì quella credenza se vuoi chiamarlo la cassettiera schernisco state zitti che gli schernisco è di qua è qua per forza eh raga e ora siete molto riusciti ma cos'era ma tu cos'eri non ve lo posso dire raga perché sarà il mio prossimo nascondiglio va bene lo sai che cosa facci eh hai perso comunque no ho fatto 5 punti ho vinto no no ma raga ma come sono io quello che caccia faccio schifo no 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 non era quello no secondo me no tu papi papà ma no è caduto un albero caspita caspiterina oh cacchio ho rabbia ho rabbia Marco Laino dove sei? puoi dirlo forte io ho paù di Marco lo mi spaventa io sono esattamente nello stesso identico posto di prima posto di prima anche io sapevo io io invece di Marco e ora schernisco un botto quella tomba sai che ero io Marco? ma come? mi sono accorto dopo che fossi eh? dove mi sono minascondi il fileto no dove sei? eh no te lo dico sennò mi vede ma tu mi vedi? in teoria sono in patatello però non lo so salta vado a cercare la tomba DeMarc no sei il suo fuoco di casa eh no DeMarc questa non è una tomba te stai tagliando è stato beccato quindi? non ti catturando dai 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 Nico dai Nico ma sono vecchi? Nico 3005 è favoloso comunque puoi tornare allora raga di nuovo Nico Nico non sono io lì io sono dalla parte opposta no Marco dove c'è la culla no Marco non è lì scusatemi Marci mi ha rotto le scatola non lo voglio più abbassi ah 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 come sta facendo Marci avete trovato un oggetto microscopico che si fiede a qualche parte no 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 sono piccoli gli oggetti no io sono grande in realtà cioè sono abbastanza sono medio di grandezza sì sono lì ma tu dove sei il buddy? eh io sono anch'io vicino a te no 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 quello ero io Nico non era Marci Marco ci bevelo dove è? era sopra il tetto Marco che è sul tetto era ma è imbarazzante ma cambia cambia un po' il naso guarda adesso mi metto a fare i cavoli miei un attimino dentro il coso non mi vedeva nessuno eh veramente guarda è infamissimo veramente 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 mamma DeMarco è veramente il cavalluccio il cavalluccio DeMarco Marco il cavalluccio boh io adesso mi guardo tutte le cose ma la cosa pazzesca è che ve ne siete andati no Marco basta non si è più interessato considerate che lì c'è Loco pure ma lasciatemi stare eh eh sono interessanti raga basta ma Loco è bugato in mezzo a un'antenna ragazzi Loco sta uscendo Loco sta uscendo è all'ingresso sopra il tappeto sta uscendo sta andando verso il traguardo veloci fatto mi sono salvato guardano mamma mia mi sono salvato anch'io ho vinto imbarazzanti raga no però sei tu imbarazzante sei rimasti fermi un quarto d'ora nello solito posto ma non è vero si ti ho continuato a contare ti è seguito dove sei? no non ve lo dico io raga comunque dico ero in quella stanza però non mi è beccato è uno sgavello marcio introvabile raga dai allora calma fermatevi tutti schernisco ok siete pronti c'è un traguardo che fa un attimo ma raga ma questo è un oggetto? ah no un pezzo del lampadale attaccato allora io sono letteralmente sotto Marco praticamente cioè sotto davanti a Marco no non sai neanche questa roba qua il tappeto no? allora Loco sta andando vicino alle finestre sei troppo lontano il più vicino è Buddy il più vicino è Buddy Buddy è il più vicino raga mi sei bugato dentro qualcosa? no 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 non è bugato raga non è bug non è bug eh ma dillo tanto sta per finire no eh no raga perché passare a noi sto ancora qua volete chiuso lo shift? fa sette minuti e mezzo lui da solo così capito? si è cercato la sua vanilla vabbè raga ok vai raga è sotto di noi è sotto di noi ma non può vederti è al piano di sotto no era sotto era sotto ma è baga chiusa è sul cantelabro è sul cantelabro della casa ma che stai dicendo? bah vabbè ok se ce la giocete allora ok mannaggia mannaggia comunque non ero lì loco ancora meglio loco ero eri lì guarda vuoi che ti faccio dire dove ero? fammi vedere vai guarda guarda perché che sto cercando nico? io dopo non ti trovo l'ora marcia ti giuro che non ti trovo guarda così ma come ma io non ci credo mai ma tu sei un folle ma cosa? ma ci sei arrivato in quel posto oh è partito il gioco chiedo scusa oh ciao nico buongiorno dai che stavo controllando eccomi qui allora mi sono andato via queste sono due senza vita basta quel piano Nico basta quel piano vai da l'altra parte Ma Loco dove sei tu? Io mi sono andato via Locchi dove sei? Io mi sono andato via Io mi sono andato via Mi sono andato via Anch'io mi sono andato via Comunque Mi sono andato via Perché C'è sempre Mi sono andato via Comunque è incredibile come Nico si è veramente focussato su quella roba Si è mutato No no raga chi è mutato? Smezzo Immbriacato Non ci si muta Non ci si muta Non va bene Ma va male così guarda Ma ci sto fermo con le due messaggi tanto Ha 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 Che cerca Marco Ha 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 Allora Chi si ce l'è? Ma ma quanto sei vicino a me? Messaggi Stavo legge dei messaggi Ma lasciami stare Ma cosa vuoi da mia vita? E' un altro Preso Molto bene Leggi i messaggi Ora li puoi leggere mentre cerchi qualcuno Mamma mia Nicolo No ma perché lui burla burla ma non è un burro No 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 Torniamo qua Dalla la la Nicolo Kiss E' qualcosa in questa Spostare i mobili Pazzesco Veramente veramente pazzesco Ma loco dove è andato? Spazzesco Stavo preso No loco non si aiuti a cercare Che bravo No loco Confidenti Lascia mi lasci i messaggi Loco sa dove sono raga non vale Leggendo i messaggini d'amore loco Ma non me ne frega niente Legge dopo Mamma mia proprio Proprio Nico Proprio di fianco a me Incredibile Ma per me era Si ma se sei bugato dentro qualcosa Come faccio? Ma che bugato Ma no Ci abbiamo preso letteralmente tutto E' quattro round che siamo qua Ma no ma raga ma No 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 raga ma no Baddi non ne chiede tanto Cioè hai capito Nico Eh ho capito Stiamo in quella stanza vita Basta dai Ma io sono fuori da quella stanza Che palle che siete Io marci comunque Lo lascio lì Non lo tocco Mi ha mostrato su nascosto il segreto E lo lascio Raga sono fuori dalla stanza Avevo visto entrare da lì Dai vi vedo dall'altra parte Vi vedo No allora Allora raga vi dico cosa sono Dai se volete vi dico cosa sono Oh capito tutti i tre qua Eccolo va Dai Nico non vale così però Ho vinto Che emozio di quadro Allora Allora Mi fidate di me un secondo Per favore Per favore Dai vai Vi ho schernito Sotto di voi sono A stanza sotto No vicino a voi Ma vedi da solo undici punti Mi dava quattordici prima Cosa vuoi Vabbè Speriamo di aver vinto Dai almeno quello Ma da marci What a legend Incredibile Pazzesco Wow Vabbè Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti